Assoluta novità per quanto riguarda i lavori istituzionali del Consiglio Comunale di Agropoli arriva il question time. Il presidente del Consiglio Comunale Massimo Laporta ha infatti convocato il primo question time della storia di Agropoli per giovedì 31 gennaio alle ore 18 presso l'Aula Consigliare Alfonso Di Filippo. La richiesta di inserire il question time fu inoltrata dal consigliere di minoranza Agostino Abate e il regolamento con delibera del 15 settembre 2018 fu approvato. Il question time, ha commentato Agostino Abate, rappresenta uno strumento per snellire il lavoro del Consiglio Comunale e per consentire ai cittadini di proporre domande all'amministrazione per mezzo dei loro rappresentanti eletti in Consiglio. Nell'avviso di convocazione del question time il presidente del Consiglio Massimo Laporta ha precisato che come da regolamento le domande dovranno pervenire presso l'ufficio da lui diretto entro le ore 10 del quarto giorno lavorativo che precede la seduta.